Da due anni anche la provincia di Lodi è un piccolo territorio, gode tra virgolette del business dell'immigrazione clandestina. Due bandi milionari fatti dalla prefettura di Lodi. Noi ad oggi non sappiamo, poiché ci sono numeri diversi che arrivano dalla prefettura, dalla stampa e dal ministero dell'interno, non sappiamo quante persone sono state accolte sul nostro territorio. Persone che gran parte non hanno il diritto di rimanere qui perché sono clandestine poiché non scappano da guerre. Ma siccome c'è qualcuno che ci fa soldi e ci fa tanti soldi, noi vogliamo sapere quante persone ci sono sul nostro territorio, dove sono state accolte, in quali strutture e se le strutture, oltre a pigliare dei soldi, rispettino almeno le normative urbanistiche ed igienico-sanitarie. Non possiamo permettere che in questo business, che ricordo l'anno scorso è costato 3 miliardi e mezzo di euro alle casse dello Stato per cui a tutti i cittadini che oltre ad avere un costo e ad essere un vero e proprio business non rispetti neanche le norme.